A me piace la donna giustani perché mi piace quando andiamo in vacanza. Molti progetti, tra fuori coloro inglese. Ha molte attività di uscita. Calcio, nuoto, karate. Ginnastica, soprattutto il nuoto. Musicale. E i professori non sono troppo cattivi. Ginnia la donna giustani. Ginnia la donna giustani. We want you. Ginnia la donna giustani. Ginnia la donna giustani. Ginnia la donna giustani. Ginnia la donna giustani. Ginnia la donna giustani.